Una parente sul Falcone. Falcone era un sostenitore della divisione delle carriere. Perché secondo lui avere nello stesso ordinamento i pubblici ministri, l'accusa e il magistrato giudicante portava ad una commissione. Non mi pare che su questo, di questo non si è mai assolutamente la magistratura contrarissima, mi pare che nemmeno lei sia favorevole. Io non condivido questa posizione perché secondo me la terzietà, io non voglio i pubblici ministeri che siano accusatori di professione, c'è una terzietà del pubblico ministero, cioè il cittadino deve sapere che quando un magistrato che fa il pubblico ministero indaga sul cittadino è un soggetto terzo che ha un equilibrio e questo è il ruolo che ha il pubblico ministero nel nostro ordinamento. E quindi sinceramente non vedo perché una persona che fa il giudice non possa fare un giorno il pubblico ministero, viceversa, detto che la separazione delle carriere sostanzialmente, per evitare proprio una certa commissione, già esiste nei fatti. Perché dobbiamo ricordare che un pubblico ministero che fa il pubblico ministero e che a un certo punto vuole fare il giudice, deve fare domanda che su un parere favorevole gli permetterà di fare il giudice in un'altra regione, cioè deve cambiare non solo regione, tra l'altro deve cambiare anche settore di competenza, quindi se faceva il pubblico ministero penale deve andare nella regione, in un'altra regione italiana, a fare il giudice civile. Quindi da questo punto di vista non è che vedo... Poi per carità, io rispetto i penalisti e i tanti cittadini che hanno fatto una proposta di legge con raccolta firme, non mi sottraggo al dialogo, se questo sistema può essere migliorato non c'è problema, però direi che non è la priorità della giustizia italiana. Io credo che il modo migliore intanto per neutralizzare, almeno in parte le correnti, sia quello, mi pare che voi siete favorevili invece, ad un sorteggio parziale. Cioè una delle ipotesi, respinte per l'altro dalla magistratura, è di sorteggiare un certo numero di magistrati e siccome la Costituzione prevede che i membri del Consiglio Superiore vengano letti, registri X magistrati, poi all'interno di quella rosa i magistrati eleggono. Le pare possibile una cosa di questo genere? È una delle opzioni che stiamo valutando. Tra l'altro voglio dire che di riforma del CSM se ne parlava già nel contratto di governo, perché proprio sul mio impulso, che ero al tavolo in cui venne scritto il contratto di governo, riteni che fosse fondamentale proprio inserire questo punto. Le posso garantire che la faremo questa riforma. Lo so che per 24 anni lei ha avuto ospiti che le hanno parlato di questa riforma, però parlavano anche di una legge anticorruzione coraggiosa. e noi ci abbiamo messo, la legge spazzacorrotti ci abbiamo messo tre mesi a farla approvare in Parlamento, adesso faremo anche questa. È una delle opzioni, però mi permette di dire che non è la panacea di tutti i mali. Il problema, per esempio, sta anche nel creare collegi elettorali più piccoli. E c'è un'altra proposta, infatti, collegi uninominali. Ci sono diverse proposte che stiamo valutando, in cui chiaramente i giudici vengono eletti non su scala nazionale, per cui vengono eletti quelli che hanno un maggiore bacino di consenso, e quindi quelli che magari sono legati a una corrente, ma un bravo magistrato all'interno di un collegio più piccolo ha la possibilità di essere eletto. E poi una fase anche, si sta valutando anche la possibilità del sorteggio, in questo il Parlamento avrà centralità, come sempre, ma non basta. Io dico, uno degli aspetti più importanti, e quello che sta succedendo ce lo dimostra, è anche innalzare un muro invalicabile tra la politica e la magistratura. Non può accadere che un magistrato vada a fare politica e poi torni a fare il magistrato. Altra cosa che da 24 anni. E lo so, soltanto che noi l'avevamo proposto quando eravamo all'opposizione. Non può che gire i voi. Sì, noi quando eravamo all'opposizione nei cinque anni della precedente legislatura, avevamo proposto soltanto che gli altri facevano melina. Ora, come dicevo prima, il tempo delle meline è finito, noi andremo avanti e le dico che, ripeto, la terzietà del giudice è un valore irrinunciabile, per cui un magistrato ha tutto il diritto di decidere di dare il suo contributo di esperienza e competenza alla politica. Dopodiché, fine, non torna alla magistratura. E' stato anche opportuno che ci fosse un periodo di una pausa tra il momento in cui lascio l'ufficio e il momento il giorno dopo non può andare a fare la campagna elettorale. Certo, con incompatibilità anche rispetto al territorio in cui si presenta. Io faccio il pubblico ministero e poi mi candido, ce l'avevo tutti sottotiro e francamente questa non va bene. Ma lo stesso, un problema simile si pone rispetto a chi è stato nel Consiglio Superiore della Magistratura e che poi nei cinque anni successivi, secondo il progetto di riforma che ho in mente io e che condividerò chiaramente con l'emiciclo parlamentare e con la maggioranza... Anche perché il Presidente del Consiglio ha detto che anche l'opposizione dobbiamo sentire nella riforma della magistratura. Ma ci mancherebbe, abbiamo sempre sentito le opposizioni, le sentiremo ancora ora. Pensa di perdere tempo se lo scordi. E mi permette di dire una cosa. Prima di fare tutte le leggi e tutto, che faremo? Non sarebbe male se ogni forza politica si impegnasse ufficialmente davanti ai cittadini a non candidare magistrati alle prossime elezioni. Sarebbe un'ottima scelta. Questo sarebbe un atto di coerenza che il Movimento 5 Stelle non perderebbe un secondo. Lei prima ha parlato giustamente di una buona magistratura. Per vedere come funzionano bene i sorteggi, la gente non sa che voi, voi ministri, se dovete essere giudicati, vedete giudicati da un tribunale speciale, che è il Tribunale dei Ministri. Questo tribunale, i membri di questo tribunale, viene sorteggiata. E devo dire che tutti quanti sanno un ravissime, nessuno ha combinato guai. Quindi significa appunto, abbiamo dei buoni magistrati, se li sottriamo a questo gioco. Stavo finendo prima, nei cinque anni successivi a quando uno è stato nel CSM, non può accedere ad incarichi, non dovrà poter accedere a incarichi direttivi, cioè a capo della procura, eccetera. Però il rapporto tra magistrati, adesso ci stiamo scandalizzando perché quell'incontro è stato veramente sciagurato, però i rapporti tra la politica e la magistratura sono nei fatti, perché nel Consiglio Superiore della Magistratura ci sono i membri laici che sono votati, al Parlamento sono votati dei partiti. Nella fattispecie, la candidatura di Viola a procuratore generale, quella caldeggiata anche da Palamara e dagli altri, a procuratore della Repubblica di Roma, è stata approvata dai tre membri del Movimento 5 Stelle, dei membri laici del Movimento 5 Stelle. Allora, per me i membri laici non sono del Movimento 5 Stelle, i membri laici sono votati dal Parlamento italiano e portati dalla Cicogna. No, no, dobbiamo dire la verità, su indicazione del Movimento 5 Stelle, così come accade sempre. Certo, come accade per tutti, come è sempre accaduto, come prevede la Costituzione. Dopodiché loro sono indipendenti all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura e fanno le loro valutazioni e in questo caso mi risulta in commissione, perché non c'era stata la votazione sul plenum, c'era stata una votazione quindi di uno di loro rispetto al procuratore Viola, ma questo però non vuol dire... Ma perché Viola è un eccellente magistrato, poveraccio sta pagando adesso il prezzo e chiariamolo perché insomma... Chiariamo che i tre candidati, che in realtà erano molto di più, tra l'altro tutti di qualità di livello altissimo, poi diciamo i tre che sono stati votati in fondo in commissione, sono tutti magistrati di una caratura elevatissima, questo lo voglio dire, però i membri laici sono semplicemente, vede, è per evitare che all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, come in qualsiasi altro organo di autogoverno, non ci sia una valvola di sfogo rispetto all'esterno e quindi c'è sempre una componente laica che dovrebbe essere selezionata tra soggetti che hanno un alto curriculum, professori universitari, eccetera, che danno un contributo dall'esterno, diciamo. Questo avviene in tutti gli organi di autonomia, avviene anche nel Consiglio Superiore della Magistratura dove ci sono membri laici che però sono indipendenti. Io le dico, il Presidente del Consiglio, Conte, la tua Presidente del Consiglio, era membro laico nel Consiglio Superiore della Magistratura, diciamo cosa che si chiama Consiglio di Presidenza, della giustizia amministrativa. Lui stesso in conferenza stampa ha dichiarato che per un anno e mezzo era lì, era stato indicato dal Movimento 5 Stelle, votato dal Parlamento, lui era lì, a un certo punto è stato lui a chiamare e dire io so che voi non mi chiamate, però voglio venirvi a raccontare quantomeno che cosa sta succedendo, come funziona. Insomma, c'è una serietà che anche nell'etica con cui porti avanti il rispetto delle regole e le forze politiche dovrebbero cominciare a porsi la questione morale in termini non di moralismo, ma in termini di dire ai cittadini per me è giusto fare questo o è sbagliato fare questo. Io continuo ad ascoltare reazioni, a me non interessa commentare la condotta di lotti, non mi interessa perché mi devo occupare della giustizia, è evidente secondo me che quella situazione lì non deve accadere, però ascoltare le forze politiche che continuano a dire ma non c'è il lecito penale, ma non c'è il reato, mi sconcerta e mi deprime anche, perché le forze politiche non possono affidare le loro valutazioni morali in base a quello che dirà un giudice sulla configurazione dei reati. Cosa c'entrano i reati? In questo caso non stiamo parlando assolutamente di illeciti penali, ma una forza politica deve presentarsi ai propri cittadini e dire questa cosa si fa o non si fa. Ora per me la risposta che dovrebbe arrivare è Lotti non doveva trovarsi lì oppure sì, per noi del Partito Democratico per esempio Lotti doveva trovarsi lì, ma è sconcertante continuare a dire decidano i giudici, ma i giudici decidono sulla configurazione dei reati. Lei è convinto che non ci siano altri incontri, non ci siano stati altri incontri tra esponenti politici e magistrati per decidere più o meno quali candidati appoggiare, che cosa va a linea fare? Ma questo guardi, cosa importa se ci sono stati o non ci sono stati? Io posso dire che... Diciamo che non si deve fare. Non si deve fare, c'è un fatto che è grave, che è gravissimo, che non può andare a finire a taralluce e vino, perché in Italia poi col sistema lo facevano anche altri o non lo facevano, a me non interessa cosa facevano gli altri, è come quando su un campo di calcio si sa che c'è il fallo anche a palla lontana, però non è che l'arbitro si accorge che poi c'è un fallo e dice vabbè ma lo fanno tutti. La sanzione deve arrivare, perché non deve passare, lo dico chiaramente, che queste situazioni possano rimanere senza responsabili e possono rimanere sanzionati. Questo ce lo chiedono i cittadini e ce lo chiede la stragrande maggioranza dei magistrati che vogliono portare in alto il nome della magistratura come è giusto che sia. Allora...